News da MyBestLife.com Escherichia coli e super batteri. Saranno i grassi a sconfiggerli? Una nuova ricerca pubblicata sul giornale FASY o ipotizza che mescolare agenti antimicrobici con lipidi produca un composto in grado di ostacolare batteri resistenti a molti farmaci. Un gruppo di studiosi canadesi ha scoperto che proporre composti antimicrobici incazzulandoli in misture lipidiche può potenziarne significativamente l'efficacia dei confronti di batteri resistenti. Per arrivare a questa scoperta, Richard DePen del Dipartimento di Biochemistry and Biomedical Science al McMaster University in Emmental, Ontario, Canada ed i suoi colleghi hanno condotto esperimenti con topi infettandoli e verificando l'efficacia dei trattamenti con e senza base lipidica. Lo studio ha anche evidenziato un nuovo utilizzo di una nuova famiglia di agenti antimicrobici, gli oligoacillisils, OUX, che hanno la caratteristica di potersi combinare con altri farmaci e con miscele lipidiche con proprietà simili per creare piattaforme per altre specifiche applicazioni. Gerard Weissman, Editor-in-Chief del Facebook Journal, conferma l'esperanza di questo nuovo approccio terapeutico commentando che grazie a questa nuova terapia l'invincibilità dei superbatteri potrebbe essere messa in discussione. Per sapere di più www.mybestlife.com